cari amici di mille un'avventura un breve video per presentare questo progetto che ready 64 ha lanciato da qualche tempo un ambizioso progetto di preservazione iniziano a digitare tutti gli stati di commodore computer club e hanno iniziato dal numero 9 perché evidentemente in quel caso avevano qualche listato già in più pronto come la digitazione completa di tutti i programmi pubblicati da pipersoft e che abbiamo pubblicizzato qualche mese fa sempre sul canale ebbene parte questo nuovissimo progetto e viene richiesta la collaborazione perché in effetti è un bel problema digitare tutti questi programmi che nel corso degli anni sono stati proposti sui sui computer per i computer commodore 64 vic 20 su questa rivista andiamo a vedere per esempio il primo programma che troviamo su questo commodore computer club numero 9 e ripeto se avete intenzione di contribuire alla digitazione potete andare nei link che vi ho scritto qui sotto che vi ho portato qui sotto potete andare a vedere tutte le informazioni necessarie ecco qui tutto il disco si parte da serpente poi c'è canestro tecniche overlay ci sono vari programmi che troverete qui in download 11 kilobyte 11 mila kilobyte 11 mila kilobyte un bel po di roba 11 kilobyte probabilmente perché in effetti non penso che sulla cassetta ci potessero stare 11 mega di roba comunque tanti programmi invece le scansioni di commodore computer club numero 9 disponibili sin dal 2018 ecco sono 11 mega di scansioni c'è il sommario della rivista e questo è il gioco che andremo a vedere il gioco del com'è che si chiama questo del serpente poi ci sono gli altri canestro tecniche di overlay il calendario perpetuo divisione in sillabe puzzle questo puzzle particolare stampa in alta definizione per stampare sui computer in alta definizione casa del mostro questo giochetto molto minimale e poi tennis per due quindi tanti programmi che potete provare a rivivere sul vostro commodore 64 da commodore computer club numero 9 ecco qui la rivista tra l'altro mi ha incuriosito e poi andiamo a vedere il programmino realizzato da da giovanni bellù che aveva proposto evidentemente a commodore computer club il programma mi ha incuriosito questi vinci questo vinci 170 mila dollari con commodore computer club sembra interessante peccato che siano passati tutti questi anni visto che la rivista del marzo 1983 altrimenti si sarebbe potuto provare a partecipare vediamo di che si tratta sfogliamo c'è la la coala tavoletta grafica il sommario qui c'è il serpente che tra poco andremo a vedere sfogliamo c'è canestro ci sono tutti questi programmi con i loro listati vic battle e questo è per vic 20 quindi probabilmente non rientra nelle competenze di reddy 64 che è dedicato al commodore 64 però spesso i programmi per vic 20 li possiamo portare sul c64 con pochissima fatica vic 20 ora che ce l'hai guarda che ci fai ed ecco qui guarda che ci fai scegli tra 100 e 100 programmi andiamo a sfogliare ancora tutta questa serie di articoli e questi li passo potete andarli a vedere voi direttamente sulle scansioni qui c'è commodore computer il magazine tennis per due dove sono questi ho 175 mila dollari in palio ingrandiamo ci interessa questa cosa chissà chi li ha vinti questi 175 mila dollari in palio se ne sapete qualcosa fatecelo sapere allora crea un nuovo videogioco e potresti diventare milionario esclusivo per il lettore di commodore computer club si tratta dall'international videogame of the year crea un videogioco intelligente originale potrei diventare un concorso realizzato dall'irp e dal famoso mark mccormack international management group sponsorizzato da ccc ti offre un'occasione unica nella vita premi elevati ed immediati 100 mila dollari primo premio per questo videogioco intelligente e originale soprattutto apparirete in tv i sei vincitori saranno invitati a far parte di uno spettacolare show televisivo che verrà distribuito ai più importanti network del mondo quanto basta per renderti famoso peccato che sia già passato il 31 maggio 84 siamo in ritardo solamente di 40 anni 40 anni fa saremo stati in tempo per partecipare i giochi il gioco i giochi su cassetta indicando su quale computer girano se sapete come è andata a finire questa cosa adesso non ho ancora indagato ma qui un po di elementi per scoprire come è andata a finire ci sono magari sui numeri successivi di commodore computer club si trova come è andata a finire ma non ho ancora sfogliato non ho ancora guardato se voi sapete ditemelo qui sotto nei commenti così riesco a togliermi il dubbio senza andare a cercare io stesso bene andiamo a vedere il gioco che è stato proposto c'è una fase molto lenta di inizializzazione perché si ridefiniscono i caratteri dopodiché si parte dovete mettere il joystick in porta 1 perché altrimenti non funziona strano che giovanni bellù abbia messo il joystick in porta 1 visto che è molto meglio metterlo sulla porta 2 per i soliti ovvi problemi qui sta mettendo vari oggettini serpentelli non so che cosa sono e purtroppo c'è questa fase molto lenta iniziale e che non ho guardato il sorgente ma strano che si debba aspettare così tanto per avere l'inizio del gioco ovviamente avendo disposizioni sorgenti si poteva tranquillamente adesso provo a premere qualcosa ma non succede nulla ecco vedete è partito il serpentello c'è anche una interessante musichetta vedete che si muove in modo automatico all'inizio però dopo un po' si può dunque io ho premuto ecco ecco purtroppo mi è bisogno essere pronti per dunque calma ecco adesso ci giriamo da questa parte ora sarò pronto e abbiamo preso il nostro primo oggettino adesso ci spostiamo verso l'alto è praticamente uno snake qui c'è un bivio ecco questo l'abbiamo preso scendi no qui dobbiamo decidere troppo tardi e adesso insomma col joystick è più facile perché così con l'emulato non riesco a premere quando dovrei comunque dicevamo ecco adesso ce l'ho fatta sto pronto giù e poi giù e poi adesso giù e poi ho perso per qualche motivo perché probabilmente sono tornato sui miei passi comunque uno snake all'interno di un labirinto e bisogna cercare di prendere più mele tra virgolette possibili per per riuscire a sopravvivere e quindi se uno preme s ecco si ricomincia da capo e si riparte con il labirinto si spera che il labirinto cambi no è uguale a prima quindi un labirinto sempre uguale e adesso piano piano si vanno a posizionare i vari serpentelli che mi sembra siano nelle posizioni di prima bisognerebbe dare un'occhiata al sorgente comunque questo lavoro di preservazione di questi programmi sta procedendo se volete dare una mano andate a vedere i link qui sotto e potete digitare i programmi magari ne avete già qualcuno digitato e potete fornirlo se non ce l'hanno già a disposizione su ready 64 l'altra cosa se sapete come è andata a finire coi 175 mila dollari fatemelo sapere perché sono curioso di sapere chi ha vinto tutti quei bei soldi e magari qualcuno ha anche visto la trasmissione televisiva in cui sono stati presentati i vincitori ecco chissà vedremo se scopriremo questa cosa lontana da noi 40 anni a me non resta che ringraziarvi per l'attenzione ci si rivedi in un prossimo video in una prossima diretta ciao a tutti su youtube c'è un canale chiamato mille una avventura che ci insegna a programmare giochi multiplayer lezioni di codice avventure virtuali un mondo digitale pieno di emozioni e speranze mille una avventura sempre pronta a imparare segui tutorial e prova a creare con il codice e la fantasi insieme a giocare un'avventura digitale che non potrà mai finire come non potrà mai finire